La gara per la privatizzazione La gara per la privatizzazione di Sogeale è stata prorogata il 27 settembre. Nessun privato si è fatto ancora avanti in attesa che la decisione della Commissione Europea venga pubblicata. Il sindaco Bruno e il consigliere regionale Tedde chiedono subito gli incentivi per le low cost. Forza Italia e i PD attaccano l'amministrazione sul servizio scuola bus. Tre dipendenti rischiano il posto di lavoro. Bruno e l'assessore esposito precisano abbiamo chiesto alla ditta il mantenimento dei livelli occupazionali. Questa sera al Forte della Maddalena il primo di otto appuntamenti con il cinema all'aperto. Alle 21 la proiezione del film di Matteo Rover è veloce come il vento con Stefano Accorsi. Ben ritrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai nostri titoli parliamo di aeroporto perché la giornata di ieri che doveva segnare la svolta per Sogeale invece è stata caratterizzata dall'ennesima proroga per la privatizzazione. La gara è andata ancora una volta deserta e il termine ultimo per presentare offerte è fissato al 27 settembre. Per certi versi quello di ieri può essere considerato un colpo di scena perché molti erano convinti che alla scadenza dell'ultima proroga fossero arrivate offerte per il 71,25% di Sogeale. Invece ancora una volta nessuno si è fatto avanti concretamente e la gara è andata deserta. Il paradosso è che ancora la procedura di infrazione sulla legge 10 è a complicare i pieni della regione. Il mancato pronunciamento aveva portato all'incontinue proroga nei mesi scorsi. Stavolta è la mancata pubblicazione sul sito della Commissione europea a tenere lontani eventuali acquirenti. A tutt'oggi infatti è ancora in corso la procedura per l'eventuale secretazione di alcuni stralci da parte degli enti preposti che devono attendere le segnalazioni dei 19 soggetti coinvolti nel caso. Da qui la decisione di rimandare tutto al 27 settembre sperando che entro quella data una copia della decisione o di parti rilevanti venga inserita in data room. Ma nel comunicato diffuso ieri il Consiglio di amministrazione ha anche annunciato di voler presentare un esposto nei confronti dell'ex direttore Umberto Borlotti, dell'esponente dei riformatori Giancarlo Spirito e del deputato Mauro Piri che nei giorni scorsi sono intervenuti su privatizzazione e condotta dell'attuale management. Secondo i vertici di Sogeal potrebbero anche esserci gli estremi per una denuncia perturbativa d'asta. Reazioni inevitabili dopo la proroga ennesima di ieri. Ci sono da registrare ad esempio le dichiarazioni del sindaco Mario Bruno. La regione proceda senza indugio a incentivare il segmento low cost a concludere la trattativa con Ryanair per l'immediato ripristino della base. Non si può aspettare, si ne dia i tempi della privatizzazione, scrive il primo cittadino algherese. La regione può e deve intervenire sulla base degli orientamenti europei come un investitore in un'economia di mercato attraverso la società di gestione dell'aeroporto di Alghero per incentivare il traffico aereo. Lo può fare, scrive ancora Bruno, incentivando i ricavi incrementali delle nuove rotte. Non è più possibile restare fermi e non svolgere la propria azione di socio unico della società di gestione aeroportuale con danni incalcolabili per il territorio. E' da troppi mesi, aggiunge, che è aperta la procedura di opzione delle quote da parte dei privati senza alcun esito. Non ci sono più scuse. Il pronunciamento dedica, così come ci ha assicurato a Villa Devoto l'assessore Deiana, solo poche righe allo scalo di Alghero, confermando il pronunciamento precedente sul caso analogo che indica la strada. Comportarsi da PM, calcolare ex ante i ricavi incrementali delle nuove rotte e quindi legittimamente incentivare il low cost. Noi siamo per chiudere immediatamente la trattativa con Ryanair, ripristinare la base e contemporaneamente consolidare il traffico attraverso altre rotte e vettori, ma non stare fermi, conclude il sindaco di Alghero. Abbiamo chiesto però anche un commento al vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde che attacca ancora una volta Pigliaru e Deiane e chiede di tornare in aula per votare con una procedura d'urgenza la ricapitalizzazione senza la privatizzazione, così come è chiesto già in precedenza dal partito. Andata ancora una volta deserta, ennesima proroga per la privatizzazione di Sogeal. Qual è il suo commento? È veramente una storia infinita. Non riusciamo a capire che cosa stia facendo Deiane e cosa stiano facendo alla Sogeal. La verità vera è che bisogna ricapitalizzare velocemente, così come noi chiedevamo, per poi privatizzare, cioè cedere il pacchetto in maggioranza azionaria, ma facendo un bando che preveda un progetto di sviluppo, un progetto tecnico da parte dell'offerente. Oggi con un euro in più si acquista il principale scalo del nord-ovest della Sardegna, anzi l'unico scalo del nord-ovest della Sardegna che serve metà a Sardegna. Quindi credo che ci sia da riflettere un attimino, fermarsi. Cioè vanno detto che non era possibile fare privatizzazione, o meglio che non era possibile fare ricapitalizzazione senza fare contestualmente la privatizzazione, queste affermazioni sono rivelate del tutto infondate. E' una grande bugia che ha dimostrato di avere le gambe corte. Molti dubbi sul bando, anche lei è stato molto critico, ha detto che chi offrirà un euro in più si giudicherà la gara. Assolutamente sì, potremmo essere fortunati da trovare un privato che punta a un traffico di 2 milioni di passeggeri, con ottimi servizi, con tanto personale, con buone manutenzioni, con investimenti, però i 2 milioni di passeggeri che arrivano, si spalmano sul territorio e quindi fanno guadagnare l'economia turistica del territorio, oppure trovare un altro privato che punta a 4-500 mila passeggeri e per ottimizzare il profitto riduce il personale, riduce i servizi, elimina le manutenzioni, elimina le pulizie, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che un'infrastruttura come quella dell'aeroporto d'Alghiero non possa assolutamente essere affidata alle sorti di un privato che non sappiamo che intenzioni abbia. Giunta regionale che ha legato sempre la privatizzazione anche alla permanenza. Voi invece siete stati sempre dell'avviso che è comunque possibile dare tuttora gli incentivi. Ma io credo che su questa partita Pigliaro e Doiana siano mossi in modo poco serio, molto poco serio, perché in prima battuta ritenevano non si potesse sostenere i low cost in quanto c'era una procedura di infrazione sulla legge 10 che vedeva implicata anche l'aeroporto d'Alghiero. Arrivata la decisione della Commissione europea sulla procedura di infrazione nella legge 10, una decisione favorevole per l'aeroporto d'Alghiero, la giustificazione per non sostenere i low cost è stata quella degli aumenti dell'addizionale su diritti d'imbarco, i famosi 2,50 euro. Una volta che questi aumenti sono stati sospesi fino a dicembre, la giustificazione per non sostenere il Ryanair e quindi il low cost, soprattutto il low cost in genere, è stata la mancanza della privatizzazione o meglio la necessità di privatizzare. Una volta che si arriva alla ricapitalizzazione contestuale, alla privatizzazione, ora ci dicono che non si può privatizzare in quanto la decisione, pur se favorevole all'aeroporto d'Alghiero, non è ancora resa pubblica. Ecco, io credo che tutto questo sia poco serio. Quindi è possibile tuttora sostenere il low cost? Assolutamente sì. Il quadro normativo, comunitario e nazionale dice che è possibile sostenere il low cost, che la regione può sostenere il low cost. C'è la comunicazione della Commissione Europea 2014, Barra C, che lo dice, c'è il decreto Lupi che lo dice, c'è la circolare del ENAC. Ci vuole la volontà politica, ci vuole il coraggio di governare e come dice Soru, se Pigliaro e Deiana non hanno il coraggio di governare, vadano a casa. Ci lasciamo per una prima pausa pubblicitaria, tra poco. Inevitabile ieri anche la reazione del deputato di Unidos, Mauro Pili, visto che il Consiglio di amministrazione di Sogeal ha annunciato di voler sporgere denuncia nei suoi confronti. Mi hanno denunciato per aver combattuto e aver per adesso fermato la svendita ai privati dell'aeroporto di Alghero. Non sanno più dove sbattere la testa, ha dichiarato l'ex presidente della regione, secondo il quale il solo comunicato stampa della Sogeal è un reato. Affermano che il privato ha chiesto altro tempo per esaminare la decisione europea, ma in una gara pubblica non si dialoga con i concorrenti. Sanno che si tratta di una gara fuori legge e adesso non sanno più come uscirne. Io ho una soluzione, conclude Pili. Si dimetta a questo pseudo-management di incapaci e altrettanto faccio il loro assessore di riferimento. Stanno facendo solo disastri. La loro denuncia per me è solo una medaglia, ha dichiarato infine Mauro Pili. Cambiamo ora argomento, parliamo del servizio Scuolabus, in particolare del nuovo appalto perché Forza Italia e il PD per bocca del suo capogruppo in Consiglio Comunale Mimo Perisi scrivono con preoccupazione della possibile perdita di tre posti di lavoro nonostante le rassicurazioni fatte sui livelli occupazionali chiedono al sindaco di intervenire immediatamente. Non più tardi di qualche giorno fa sindaco e assessore in merito al nuovo appalto del servizio Scuolabus avevano garantito che i livelli occupazionali sarebbero stati garantiti lasciando intendere in maniera inequivocabile che nessuno dei lavoratori avrebbe perso il posto di lavoro. Purtroppo di inequivocabile anche in questo caso sono state le balle. A scriverlo i consiglieri di Forza Italia Michele Paes, Nunzio Camerade e Maurizio Pirisi che in una nota spiegano come delle 11 unità impiegate tra autisti e assistenti solo 8 sarebbero riassunti mentre 3 lavoratori risulterebbero a casa. Un fatto gravissimo dicono i tre sia dal punto di vista dell'impegno tradito sia dal punto di vista della grave perdita occupazionale e dei soggetti a cui viene a mancare in maniera improvvisa e imprevedibile l'unica fonte di reddito per sé e per la propria famiglia. L'ennesima balla è l'ennesimo danno grave di questa amministrazione proseguono i tre incapace di amministrare ma capacissima a distruggere ogni cosa che prima funzionava regolarmente senza problemi. Tuttavia pretendiamo che il sindaco intervenga immediatamente nei confronti dell'impresa appaltatrice del servizio Scuolabus intimandogli l'immediata assunzione dei tre soggetti esclusi. Nel caso in cui non lo facessi o nel caso in cui non vi riuscisse proseguono reiteriamo la richiesta di dimissioni immediate di sindaco e dell'intera giunta vadano a casa prima loro dei lavoratori incolpevoli della cattiva amministrazione della città affermano Paes Camerade e Maurizio Pirisi e sulla stessa questione interviene anche Mimmo Pirisi capogruppo in consiglio comunale del PD diranno che la colpa è del lavoratore del sindacato del legale della ditta o di tutti insieme ma mai dell'amministrazione mai di un capitolato che poteva essere fatto meglio intanto imbarba le dichiarazioni dell'assessore esposito dove si garantiva un servizio migliore e che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro così non è stato almeno per ora tre padri di famiglia due autisti e un assistente mandati a casa senza spiegazioni e sono stati inseriti almeno sei nuovi operatori già dipendenti della nuova ditta perché questo? perché potevano farlo spiega Mimmo Pirisi perché il capitolato parlava di armonizzazione tra gli altri dipendenti uscenti e quelli della ditta vincitrice questo è quello che hanno scritto nel capitolato di gara qualcuno dirà che è andata bene potevano perderne di più ma ora la città di Alghero ha tre disoccupati in più spero in un ravvedimento della ditta e una presa di coscienza dell'amministrazione sarei stato più contento di essere stato smentito dai fatti ma così non è stato chiude il capogruppo del PD Mimmo Pirisi su questo tema c'è da registrare però proprio la replica sia del sindaco Mario Bruno che dell'assessore Esposito ho chiesto il mantenimento dei livelli occupazionali così come previsto dal capitolato di gara tra le prerogative dell'amministrazione non c'è quello della scelta delle persone ma quello della salvaguardia dell'occupazione che sarà garantita è addirittura incrementata così il sindaco di Alghero Mario Bruno ha replicato il servizio poi viene precisato in una nota diffusa da Sant'Anna che sarà svolto con nove autisti conducenti e cinque assistenti vigilatrici sugli alunni a cui si aggiungono cinque autisti sostitutivi e quattro assistenti sostitutive si va verso un servizio di qualità con l'avvio immediato della porta a porta e l'acquisto di 11 nuovi automezzi il nuovo servizio infatti contempla un sostanziale innalzamento della qualità del trasporto scolastico a tutto vantaggio delle famiglie e degli alunni ha precisato invece l'assessore alla pubblica istruzione Gabriella Esposito facciamo un altro break tornerà a riunirsi martedì 13 settembre alle 18 dopo la pausa estiva il consiglio comunale 37 punti all'ordine del giorno della seduta convocata per la prossima settimana che proseguirà poi lunedì 19 gran parte di questi punti sono mozioni interrogazioni presentate dai partiti di opposizioni tra le quali due riguardanti il bando sulla gestione del sistema di accoglienza e le utenze nell'ex caserma dei carabinieri ma tra quelli anche i più attuali l'ODG presentato da Forza Italia con il quale si chiede di destinare una parte dei proventi della tassa di soggiorno al fondo salva low cost accolta non senza polemiche la nuova convocazione del consiglio sia per la pausa definita troppo lunga da alcuni consiglieri per via di alcune criticità emerse nell'ultimo periodo aeroporto in primis critica tra gli altri anche Monica Polina del gruppo misto che dice è un ordine del giorno costituito interamente da interrogazioni e emozioni dei gruppi di minoranza mancano completamente gli atti prodotti dall'amministrazione nel frattempo denuncia le esponenti di opposizione la città tende risposte che ancora non si palesano con atti concreti aspettiamo tempi migliori lasciamo da parte la politica perché oggi giovedì 8 settembre alle 21 al forte della Maddalena il film rilevazione di Matteo Rovere veloce come il vento con Stefano Accorsi tra gli attori inaugura ufficialmente la rassegna cinematografica cinema al forte la manifestazione propone la proiezione di 8 pellicole e chiudere i battenti giovedì 15 settembre l'ingresso è gratuito e in caso di maltempo la proiezione verrà effettuata nella sala proiezione del Qualte ci lasciamo ora per un altro po' di pubblicità due notizie di sport prima di lasciarci iniziamo con il basket la Dinamo Banco di Sardegna si imposta con autorità sulla Silica Savellino nell'amichevole ieri sera a Padru gli uomini di coach Pasquini si sono rifatti sulla formazione erpina dopo la sconfitta di domenica nella finale del torneo internazionale Tirrenia la Dinamo ha chiuso il match 79 a 53 con ben 4 uomini in doppia cifra Odom Savanovic Carter e Stipcevic prossimo impegno nell'agenda dei Bianco Blu il trofeo città di Sassari Mimì Anselmi nella prima gara del torneo in programma domenica 11 settembre alle 20.30 la Dinamo ospiterà la palastera di Mimì i campioni europei del Galatasarai l'intero incasso del match sarà devoluto in beneficenza a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia inoltre il main sponsor Banco di Sardegna raddoppierà l'incasso dando un corposo contributo al fine benefico della manifestazione due primi posti e quattro secondi posti il bottino invece conquistato dalla Power Club al campionato regionale WDFPF di Pancappiana svoltosi lo scorso 4 settembre ad Alghero alla Palamanchia gli atleti algheresi guidati dall'allenatore Michele Marras hanno brillato così in casa iniziando nel migliore dei modi la stagione agonistica Michele Marras è arrivato primo nella categoria meno 75 kg altrettanto ha fatto Gabriele Marras ma nella meno 60 hanno chiuso al secondo posto gli altri atleti della Power Club Andrea Marrosu nella meno 67 kg Dario Borroni nella categoria under 23 Salvatore Caneo e Giuseppe Caria nella over 60 quello dello scorso weekend è stato il primo appuntamento stagionale per la Power Club che ha ripreso a pieno regime gli allenamenti la squadra di powerlifting della società algherese è sempre aperta a nuove adesioni per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.palestra powerclubalgherum.com o recarsi in Via Zeni località La Scaletta per oggi è davvero tutto ora il meteo grazie per essere stati con noi arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti